Oggi una bella serie di prodotti finiti Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale Questa sera, per me è sera, quindi abbiate pazienza se il video verrà pubblicato di mattina Una bella serie di prodotti finiti Li ho qui nella mia amata sportina del DM Che, ditemi voi se non è adorabile, scusate ma ve la devo far vedere Cioè questa è una dimensione perfetta per un sacco di cose Lo so che mi emoziono per poco, ma va bene Come al solito finisco cose, più che altro cose a caso Cerco di tenere le cose che non vi faccio vedere sempre Quindi non il solito bagnoschiuma della felce azzurra Che oramai avete visto in tutte le lingue, in tutte le salse, sapete che io uso sempre Per cui cerco di farvi vedere le cose un pochino più sfiziose Ci sono cose per la casa, cose per la persona, cose in generale Quindi partiamo subito Come sempre e come anche nella mia vita privata C'è caos e non organizzazione Per cui potreste vedere un ammorbidente subito dopo un fondotinta o un concealer Per cui abbiate pazienza e proseguiamo Allora ho finito questo ammorbidente della Pure Soft Infinity Dunque, Night in Blue era la profumazione Pure Soft è la marca ed è questo qui Pagato pochissimo, tipo 90 centesimi È una marca diciamo, una sottomarca, una marca sconosciuta Che però io amo molto in una sua versione piccolina È una specie di quadrato La confezione blu Che è proprio quello classico Ha una profumazione buonissima Quello, peccato che non lo facciano più Io non lo trovo più Perché era anche molto intenso Lo trovavo all'ipertosano ma lo trovavo anche da Tigotà Ora non li trovo più Questa marca più soft si è messa a fare Delle profumazioni più particolari Tipo questa Che non è che mi convincano tanto Nel senso che questa era una profumazione molto buona Da sentire così Però poi sui capi prendeva una profumazione Che sì, si sente Perché quelli di questa marca sono sempre abbastanza intensi Però variava Virava e non mi piaceva molto Per cui purtroppo non lo ricomprerò più Per il principio di cui sopra Struccante bifasico della Garnier Acqua micellare bifasica con olio d'argan Io questa sapete che la uso sempre Devo dire di averla usata però Con diversi utilizzi quest'anno Voi direte perché cosa l'hai usata Per lucidare le mattonelle? No Sempre per struccare Però io prima la utilizzavo solo per struccare gli occhi Poi andavo di acqua micellare normale sul viso Cioè quella non bifasica Più di una volta Anzi molto spesso Durante il periodo invernale Come a quel periodo più freddo L'ho utilizzata per struccare tutto il viso Quel periodo è un periodo che per me Vuol dire pelle secca Comunque pelle non secchissima Ma comunque tendente al secco Per cui per me è stata una mala dal cielo Perché era molto confortevole Con poi la detersione Quindi il risciacquo E l'utilizzo di un detergente schiumoso O meno Comunque un detergente a risciacquo Veniva via tranquillamente Quindi non è una cosa oleosa Che occlude i pori Eccetera eccetera Per cui l'ho già ricomprato Ce l'ho di là Perché lo utilizzo di sicuro Anche comunque Non per tutto il viso Ma magari per gli occhi Anche d'estate Poi ho finito Questo balsamo nutriente Di L'Oreal E' il Viv Eccolo qua Olio straordinario Mi è piaciuto tantissimo Tantissimo Pagato un euro e venti In offerta Ed è per questo Che l'ho comprato Per provarlo Finalmente una volta Che compro un balsamo Diverso dai soliti Per provarlo E mi piace veramente Perché di solito Questi miei esperimenti Finiscono sempre A schifiu Come dico io In questo caso Mi piace moltissimo Mi è piaciuto moltissimo Ne basta pochissimo Molto districante Molto nutriente Forse anche troppo Bisogna stare attenti Cioè se avete i capelli grassi No Assolutamente Neanche sulle punte Ma se avete i capelli Tendenza secca Come i miei Questo è perfetto Allora Ho finito poi Questo profumatore per bucato Laundry Elisir Additivo profumato per bucato Fresco bucato Si chiamava Allora Devo dire che questo Non mi è molto piaciuto Quindi purtroppo Lo devo bocciare Si è un attimo sporcato Aspettate che lo pulisco Lo devo bocciare Perché La profumazione è anche buona Una profumazione talcatina Che profuma di crema Più che di talco Di crema per bambini Non so se avete presente Queste cremine Tipo Fissan O cose del genere Ecco il profumino Era quello Però purtroppo Non restava sui capi Più che altro Restava Ma in maniera differente Cioè io Ho notato che molti di questi prodotti Tendono a virare No? Quando li metti Su Comunque all'interno Della lavatrice Che escono i panni Della lavatrice Non hanno L'odore Che si sente qui Non parlo di intensità Perché è chiaro Che non hanno la stessa intensità Del prodotto Hanno usato puro Però proprio varia E quindi non mi è piaciuto Tra l'altro Costava anche parecchio Perché mi parla di averlo pagato Più di 5 euro 6 euro Insomma Non è che l'abbia pagato Pochissimo Però bisogna dire che Era un bel botticione Da 250 ml Non ricomprerò più Nessuno di questi Profumatori di questa marca Perché devo dire la verità Mi ha lasciato Come vi dicevo Abbastanza triste Poi Mio amatissimo Amatissimo Tutta la vita Deo 2 Sto cercando di pulire Perché è tutto insozzato Qua Non so perché Deo 2 Anticalcare Questo 4 in 1 Vabbè È una cosa Meravigliosa Ha un potere Anticalcare Che non ho mai visto In nessun altro prodotto Se non è l'acido citrico È rosa Ora qua Forse un po' si vede Forse sì C'è proprio una lacrima È rosa È un bonus Per me Questa cosa che sia rosa Ha un potere Anticalcare Vi dicevo Che ho visto soltanto Nel Nell'acido citrico Per cui È veramente potentissimo Ha un profumo di pulito Buonissimo Di una persistenza Incredibile Questo è veramente un prodotto Che se lo usate Per pulire il bagno Si sente in tutto il bagno E si sente per ore Per cui ve lo consiglio Ho provato quasi tutti i prodotti Della Deo 2 Alcuni mi sono piaciuti Alcuni assolutamente no Questo assolutamente sì Poi Sweet home Amorbidente Concentrato Eccolo qui Questo è un Ocean Paradise Per la profumazione Anche qui Devo Comunque Assolutamente Bocciare Questo prodotto A differenza di quello Del muschio bianco Perché Ha una profumazione Direi Paradisiaca Paradisiaca Se l'hanno usata da qui È uno dei profumi più buoni Che io abbia mai sentito Di pulito Di fresco Ma sui capi Non ha lo stesso profumo Rimane Perché sono buoni prodotti Quelli della Sweet home Ma varia Stessa cosa Vale per le goccine Di bucato Che sto per finire Stessa cosa Profumo paradisiaco Ma sui capi Vira Cambia Non ha più Lo stesso profumo Per cui Poi Ho finito Questo bagnoschiuma Della Dermomed Di questa linea Che è Dedicata Alle ricette Di benessere Italiane In questo caso Era dedicata Ai profumi di campagna E Era Il fico bianco Dunque Io ne ho provati diversi Mi sono piaciuti tutti Questo al fico bianco Aveva Un profumo di fico Molto particolare Nel senso che Non era il classico fico L'odore un po' rebaccio Questo Mi è andato in un occhio Era un fico dolce Molto buono Molto confortevole Veramente Mi è piaciuto tantissimo Infatti penso che Ne prenderò altri Per provarli Ma penso di averli provati Quasi tutti Questi di questa linea Fatta così Ve li consiglio veramente Tra l'altro Ho pagato pochissimo Poi Deo 2 Eccolo qua Per sempre Per parlare Dei prodotti Deo 2 Che vi dicevo Lo provate tutti Lavastoviglie Questo è Il liquido Per la lavastoviglie È assolutamente Inutile Cioè come non mettere niente A parte Allora Era giallo Di una consistenza Gellosa Però era A grumi Praticamente Tu lo Spruzzavi Con anche difficoltà Dovevi schiacciare Molto Perché uscisse E uscivano Dei grumi Più solidi Dei grumi Meno solidi Io non ho capito Se era difettoso Questo o meno Comunque potere pulente Pari a zero Profumante Zero Sulle stoviglie Quando si Utilizzava Magari Quando si è cucinato Il luogo Queste cose Un po' particolari Non aveva assolutamente Nessuna funzione Quindi non mi è piaciuto Per niente Poi rimanendo In tema Casa Andiamo su questo Prodotto Sempre Di Deo 2 Eccolo qua Vici Gel Profumazione A mand Quindi Alla mandola Sa veramente Di mandola Tantissimo Nel senso che ha un odore Che profuma Di pasticceria siciliana Io L'ho preso Perché ovviamente Ero Molto curiosa Di questo prodotto Moltissimo curiosa Di questo prodotto Ma sono rimasta Un po' Scioccata Dall'odore Perché secondo me Un odore Che non ha molto senso Dato in un bc Non mi è piaciuto Per niente Io ho capito Che questi tipi Di A parte il beccuccio Che secondo me Già L'ho voluto provare Per forza Perché appunto Della Deo 2 Già così Comunque Si apriva in questo modo Tirando Ora Non si apre più Comunque tirando Si apriva Ma non aveva il beccuccio Insomma Tu ogni volta Che cercavi di andare sotto Diciamo Il vici Nei laterali Questo si andava a chiudere Insomma Quindi era proprio Un prodotto mal progettato Cioè Non mi è piaciuto Neanche un po' Il colore azzurro È un aggravante Per me Perché non mi piace Quando sono colorati Però ripeto Ho voluto provarlo Non ha potere Desincrostante Sbiancante C'è proprio nulla Quindi per me Voto 0 Allora Olio di Argan Ripara i capelli danneggiati Questo è uno shampoo Di Herbal Essence Che ho trovato Anche questo in offerta E ho voluto provarlo Mi è piaciuto tantissimo Infatti Credo che proverò Altro Di questa linea Herbal Essence Diciamo Perché è 90% Di origine naturale Zero coloranti Paraffina Bottiglia BPA Comunque Molto buono Sui capelli Non me li seccava Buon potere Lavante Bastava poco prodotto Non c'era bisogno Di esagerare E quindi mi è piaciuto Tantissimo Goccine Nunca Drops Di queste Comunque Nella profumazione Bouquet Io preferisco Quelle azzurre Ma anche queste Sono fantastiche Queste sono Secondo me Le madri Di tutte le goccine Uscite poi Negli anni Quindi queste sono Le più Sono le mamme Un po' Dobbiamo ringraziare Loro Se esistono Gli altri brand Di Come si dice Di goccine Sempre perfette Si sentono benissimo Questa anche profumazione È molto buona Per cui super promosse Poi ho finito Questo neodorante Nivea Deo Beauty Elixir Questa nuova confezione Diciamo spray Ecco qua Sono comunque Quegli spray No gas Assolutamente Ottimi Io Come i doodoranti Nivea Sono assolutamente I miei preferiti In assoluto Ma assolutamente Sto provando Anche quello All'argan Sempre uguale Ottimo anche Quello Ora passiamo A un pochino Di cose Per la persona La prima cosa Che vi faccio vedere È il mio Adoratissimo Cancella età Di Maybelline Eccolo qua Lo conoscete Tutti È il mio Concealer Preferito In assoluto Ha un potere coprente Direi medio Medio basso Forse Ma è Fantastico Nel senso che Copre Bene Non crea Spessore Non va Nelle pieghe Veramente distende La zona Del perioculare Per cui Perfettissimo Per chi come me Non ha più 20 anni Oltre Le tre cose Che vi faccio vedere Sono tre Prodotti Che mi sono stati inviati Da comunque La farmacia del castello Per la loro Nuova linea di skin care Che è la linea termale E sono Innanzitutto La mousse detergente Ultra delicata Vabbè Voi sapete benissimo Quanto io Abbia una Insana passione Negli ultimi anni Direi Per i prodotti mousse Per la detersione Questo è veramente Una coccola È stata Un prodotto Con un profumo Delicatissimo E tutti i prodotti Comunque Di questa linea termale Hanno dei profumi Delicatissimi E ogni Prodotto Ha una profumazione Differente Questa è una cosa Che ho apprezzato molto Perché è molto Indice di Utilizzo di materie Prime reali Infatti poi Vedrete un altro prodotto Che aveva veramente Delle Caratteristiche Particolari Come questo Che comunque Una coccola Non seccava Toglieva Ogni residuo Di possibile Olio struccante Che potevo avere Sul viso Acqua micellare Residui di trucco Qualsiasi cosa Potessi essermi rimasta Veniva via con questo Quindi questo è un prodotto Fantastico Ho poi finito Della stessa linea Lo scrub Vedete comunque In quantità Sono abbastanza piccolina Ho potuto provarlo Circa tre volte Direi Ma Fantastico Questo è uno scrub Al pompelmo Infatti perfuma Tantissimo di pompelmo E ha questa Questo colorazione rosa Con Delle microgranuli Rosa più Proprio più scuro Tipo come un pompelmo Rosè Da questa Leggero scrub Molto delicato Molto delicato Ma molto efficace Ma soprattutto Dava una vera Sensazione energizzante Molto 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 Buona Mi è piaciuto tantissimo Questi prodotti Che vedete adesso Sono i miei preferiti Della linea Quelli che ho apprezzato Di più Ho finito poi La crema Cashmere E seta Questa è stata La mia crema Manna dal cielo Per quasi un mese Volevo farvela vedere Eccola qua E' una crema Abbastanza nutriente Quindi abbastanza importante Ma molto molto Leggera sulla pelle Quindi si assorbeva subito Lasciava la pelle liscia Assolutamente Idratata Il mattino dopo Aveva questa sensazione Proprio di Pelle molto vellutata Ecco Mi è piaciuta tantissimo Io la usavo di sera Non ho qua La scatolina Perché non riesco a trovarla Sapete sono piccole Nel mio cassetto Della skin care In bagno Si è un po' perduta Ma verrà fuori La crema vitaminica Della stessa linea Quindi la linea termale Fantastica La mia crema preferita Da giorno Quindi una crema Che sicuramente Contiene vitamina C Una crema energizzante Che fa rinnovare La pelle Io vi ho detto Vi ho fatto vedere In altri video Ma l'avete potuto vedere Anche prima La mia pelle Quest'inverno E' stata trattata Da questi prodotti Per più di un mese E veramente Io ne sono rimasta Colpitissima Per cui Ve li consiglio Proprio dal cuore In questo caso E niente ragazzi Io ho finito qua Cioè questo video Prodotti finiti Finisce qui Spero comunque Di avervi tenuto compagnia Come sempre Noi ci vediamo prestissimo Con un nuovo video Ciao ciao Ciao